Sono in località San Pietro Mentre sotto di me appare evidentissimo il santuario di Valmara Eccoli i 1.622 metri del Colle e Ciavra Mentre stupido sono quelle sono quelle Tramonti stupendi, ecco il cartello del Colle della Sabra All'indrumire la Colle del Bivore All'indrumire ormai Il Sant'Ale di Valmara Giungo a San Pere Il centro, il centro, la chiesa di Sant'Ale Il villale principale, la piazza centrale La chiesa parrocchiale